Grazie, grazie Mauro. Buonasera a tutti. Sono particolarmente onorato, emozionato e felice di poter fare questa lettura, non tanto per la mia persona, quanto perché credo sia la prima volta che la premologia interventistica è oggetto di una lettura introduttiva a una cerimonia di apertura di un congresso nazionale. Io ricordo i congressi di 30 anni fa, quando l'endoscopia toracica, quelle della mia età forse se lo ricordano, erano sessioni di endoscopia toracica che erano messe nelle ultime due ore del congresso, in una saletta molto piccola. Questo significa, se oggi abbiamo l'onore di aprire il congresso con questa specialità, questo significa che effettivamente la premologia interventistica in questi anni si è illuminata. Come faccio ad andare avanti? Il mouse sulla sinistra, un attimo, provo. Dov'è il mouse? Allora, proviamo. Effettivamente non c'è il mouse. Ah, l'avevano spostato. Parto dal titolo di questo congresso, l'illuminismo. Il secolo dei lumi è stato il 1700, il 1700 si è acquisita l'importanza della ragione. Per la premologia interventistica il secolo dei lumi è stato il 1900. È un secolo in cui sono avvenuti tanti cambiamenti, lo vedete da queste immagini, non solo nel campo scientifico, ma anche nel campo sociale, nel campo artistico, nel campo musicale, nel campo della vita. Si è passati dal giocare con un cerchio a internet, quindi immaginate che esplosione di cambiamenti sono avvenuti. E la premologia interventistica ha cambiato. Questo è il modo con cui si facevano le broncoscopie a sinistra, all'inizio di questa storia. Oggi vedete che una sala endoscopica è un concentrato di tecnologia, è un concentrato di professionalità. E come si è passati? Si è passati dalla prima fase ad oggi grazie all'azione e all'attività di pionieri, alle intuizioni mediche, ad idee, a coraggio, ovviamente a sviluppo tecnologico e a passione. E questa è una storia di pionieri, è una storia di personaggi coraggiosi. Nell'illuminismo c'erano stati dei pionieri che avevano cambiato il modo di pensare. Nella nostra storia della premologia interventistica possiamo parlare di pionieri, possiamo parlare di giganti. Io direi che le cinque persone che hanno effettivamente cambiato questa storia con innovazioni fondamentali per la nostra attività sono queste, i giganti Gustav Kilian, Shigetu Ikeda, Copenbank, Jean-François Dumont ed Henrik Becker. Ed è proprio salendo sulle spalle di questi giganti che noi siamo riusciti a progredire, siamo riusciti ad andare avanti, siamo riusciti a fare quello che oggi la pneumologia interventistica fa. Diceva Diderot nel periodo dell'illuminismo che le scienze sono un grande recinto di terreno disseminato di luoghi oscuri ed illuminati. L'albero bronchiale era un luogo oscuro che andava illuminato. Questo successo nel 1897, quindi alla fine degli anni Ottocento, all'inizio di quello che ho chiamato il secolo dell'illuminismo. Era un anno in cui successero altre cose. Giovanni Pasco riscriveva l'Aquilone, c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria. falliva la spedizione artica e mi dispiace, mi dispiace, l'ho dovuto mettere per chi non è bianco o nero, però di fatto quell'anno, l'anno in cui nasceva la broncoscopia, veniva fondato lo sport club Juventus. Mi dispiace per chi non è juventino. Io di questo sono felice. E nel 1897 inizia l'esplorazione. Come inizia? Uno torino di Friburgo, in Germania, ha un'intuizione. Ha un'intuizione perché c'è una necessità clinica. Un contadino della Bavira aveva inalato un osso di maiale. E quest'osso di maiale era nei bronchi. Il contadino stava morendo. Kylian ha un'intuizione. Se io estendo la testa del paziente, io creo una linea retta tra il cavo orale e la trachea. E io riesco ad entrare con un tubo dentro questa trachea. E lui lo fece con un esofagoscopio. Rimosse il corpo estraneo, rimosse l'osso di maiale e salvò la vita a quel contadino. Nasce la broncoscopia che Kylian stesso chiama directe broncoscopie. Aveva portato nel buio un lume. Aveva rischiarato l'albero tracker bronchiale. E quindi tutto era divenuto distinguibile, visibile. La rimozione del corpo estraneo. Curiosamente, pochi anni dopo, nel 1910, nasce un'altra metodica che è portante per la pneumologia interventistica. La toracoscopia. Nasce grazie all'intuizione di un internista svedese, Hans Christian Jakobus, che intuisce che è possibile inserire un cistoscopio, un tubo, nel cavo pleurico di un paziente per poter rimuovere le aderenze, per poter visionare tutto il cavo toracico. Nasce la toracoscopia. E cominciamo a dire che in questa storia l'Italia c'è. L'Italia c'è perché pochi anni dopo, dieci anni dopo, poco più, addirittura, Felice Cova, che lavorava al sanatorio di Garbagnate, fa la prima toracoscopia in Italia, e addirittura pubblica un'Atlante, a cui tempi era molto difficile, immaginate pubblicare un'Atlante, non c'erano macchine fotografiche, bisognava prendere un disegnatore che disegnasse quello che attraverso il cistoscopio si vedeva. Ma l'Italia c'è. In questa storia poi c'è un lungo periodo di silenzio, un lungo periodo drammatico, perché l'umanità piange, l'umanità ha altre cose a cui pensare, e la nostra storia si ferma a queste due metodiche che vengono eseguite in alcuni centri d'eccellenza. La prima e la seconda guerra mondiale rallentano questo progresso e questa storia. Bisogna andare quindi oltre, bisogna andare oltre agli anni Sessanta per cominciare a vedere un vero e proprio sviluppo. Negli anni Sessanta cominciano i voli spaziali, negli anni Sessanta i Beatles pubblicano il loro primo 45 giri, i Love Me Do, partono le minigonne, nascono i primi computer prodotti, il primo computer portatile, dell'Olivetti, e alla fine degli anni Sessanta l'uomo addirittura sbarca nella Luna. La tecnologia era pronta perché nella nostra storia si potesse fare un salto importante. Intanto, alcuni anni, nella metà degli anni Sessanta, quasi casualmente nasce una metodica che è la biopsia polmonare trasbronchiale. Quasi casualmente perché? Perché il gruppo della Mayo Clinic, Andersen e collaboratori, facendo delle biopsie bronchiali un po' in profondità, si accorgono che c'era anche del parenchima polmonare. E allora dicono, ma forse attraverso il nostro broncoscopio noi possiamo fare delle biopsie polmonari. E nasce la biopsia polmonare trasbronchiale. E l'Italia? L'Italia c'è. Perché solo due anni dopo Benito Leoncini e Renato Palatrese pubblicano un contributo tecnico alla biopsia polmonare trasbronchiale. E Benito Leoncini è stato uno dei primi presidenti di questa società, a cui mi onoro di appartenere. Ma negli anni Sessanta doveva succedere qualcosa di grosso, qualcosa di importante. E in effetti è una tappa fondamentale nella nostra storia, perché Shigeto Ikeda propone il suo primo broncoscopio flessibile. È un chirurgo giapponese e il broncoscopio flessibile è un'innovazione straordinaria. È un'innovazione straordinaria perché consente di andare più in profondità nell'albero tracheobronchiale, consente di esplorare meglio questa caverna, consente ai pazienti di toglierare meglio questo esame. E Shigeto Ikeda è talmente convinto che questa sua intuizione, che questa sua ideazione possa avere uno sviluppo futuro importante che fonda una società. La World Association for Broncology, che oggi è la World Association for Broncology and Interventional Pulmonology, che mi onoro di presiedere. E questo è il primo congresso mondiale di broncologia, organizzato da Shigeto Ikeda a Tokyo. Ho avuto l'onore di conoscerlo e di incontrarlo e quella volta avevo un sogno da giovane pneumologo, stupito di questo congresso e di quanti giganti e di quanti maestri avessi potuto incontrare lì. Pensavo, ma chissà se forse in futuro sarà possibile realizzarli in Italia. E ci siamo riusciti. Nel 2016 questo congresso mondiale di broncologia è stato fatto in Italia, a Firenze, grazie alla splendida e perfetta organizzazione di Aipo Ricerche. E' rimasto nella memoria di tutti i colleghi, di tutto il mondo, che ancora lo ricordano, come uno dei congressi di broncologia mondiale più importanti e più belli che si siano avuti. La passione, la passione anima questa storia. Shigeto Ikeda ne è un esempio. Perché, guardate, addirittura, questa è la sua tomba, è morto qualche anno fa. Nella sua tomba c'è lo stemma dell'associazione che lui ha creato. E nella cripta, in basso, c'è il suo broncoscopio, che l'hanno accompagnato non solo nella vita, ma anche al di là della vita stessa. Diceva Voltaire, rifacendoci all'illuminismo, la scrittura è la pittura della voce. E Shigeto Ikeda pubblica un'autobiografia in cui scrive un motto che io dico e lancio a tutti i giovani, a tutti gli studenti, a tutti gli specializzanti. E questa storia della pneumologia interventistica è un esempio di come non bisogna arrendersi mai. Broncoscopio flessibile crea un'esplosione. Un'esplosione di innovazioni tecniche, un'esplosione di novità. È un illuminismo che immediatamente viene fatto progredire. È una rivoluzione che ha trascinato tutta la pneumologia, perché dal broncoscopio flessibile sono nate una serie di tecniche ancillari, una serie di nuove metodiche. Cominciamo dagli anni Sessanta, agli anni del Walkman, esce il primo computer Apple, gli anni dei videoregistratori UHS, cominciano ad arrivare i primi telefoni cellulari. Nella nostra storia compare un altro gigante, Copenbang, cinese, si vede, ma lavorava alla Hopkins University Baltimore, che intuisce e propone e diffonde l'agoaspirazione trasbronchiale. Bucare le pareti dei bronchi per andare a prelevare quello che c'è al di fuori, il mediastino. Nasce la TBNA, Transbronchial Needle Aspiration, e la broncoscopia cambia, si evolve da metodica diagnostica, diventa una metodica diagnostica estadiativa, diventando un esame fondamentale nel percorso del cancro del polmone. E quest'opera, come c'è scritto in questa frase di Diderot, Wang forse non lo intuiva, ma produrrà col tempo una rivoluzione, perché sarà la madre di una nuova metodica, come vedremo poi che ha cambiato completamente il nostro modo di fare broncoscopia. E questo veramente è stato un servizio per tutti i pazienti affetti da patologie respiratorie. Ma gli anni Ottanta sono importanti, anche perché un altro maestro compare sulla scena, è Jean-François Dimon, di Marsiglia, che fa crescere la broncoscopia terapeutica, introducendo la laser terapia nei bronchi, laser che già era utilizzato in altre branche della medicina, ma lui intuisce che con il laser è possibile rimuovere il tessuto che chiude il respiro, che chiude le vie aeree, e quindi far respirare il paziente, e propone un nuovo tipo di protesi tracheobronchiale per mantenere aperte le vie aeree, per mantenere aperto il respiro, che ancora oggi è lo standard da tutti utilizzato. E l'Italia? L'Italia c'è, anche in questi anni, perché il primo congresso europeo sulle tecniche bioptiche trasbronchiali, quindi sulla TBNA, viene svolto in Italia, con Coppenvang come direttore, e sulla broncoscopia terapeutica, io penso che un pensiero affettuoso e di gratitudine debba essere dato a Sergio Cavaliere, che è stato uno dei primi a seguire Jean-François Dumont, ed è stato il maestro per tutti quelli che in Italia, come me, praticano broncoscopia terapeutica. L'Italia c'è, grazie Sergio. Arriviamo agli anni 90, Google, i DVD, il progresso esplode, il progresso avanti, il progresso corre, e la toracoscopia ce l'avravamo un po' dimenticati, ce l'avravamo dimenticata, Jacobeus, ma la toracoscopia ha un altro maestro, che è Christian Boutin, francese, di Marsiglia, che ripropone questa metodica, ne ribadisce l'importanza, ma soprattutto sottolinea le caratteristiche mediche, e quindi la possibilità che la toracoscopia sia fatta da pneumologi. Toracoscopia medica, scrive libri, organizza corsi, insegna a tutto il mondo, e l'Italia? L'Italia c'è. Perché uno dei suoi allievi, Gianfranco Tassi, di Brescia, che poi genererà un altro maestro, che è Gianpietro Marchetti, sempre di Brescia, diffondono la toracoscopia in tutta Italia, e tutti noi che effettuiamo questa metodica, tutti coloro che effettuano questa metodica, devono dire grazie Gianfranco e grazie a Christian Boutin. Però dovevamo estendere i confini delle zone illuminate. Ancora, quello che avevamo illuminato in questa storia non era abbastanza. Estendere i confini delle zone illuminate e vedere quello che c'è al di là delle pareti bronchiali. Ed ecco un altro gigante, Heinrich Becker di Heidelberg, che negli anni 90, nel 96, introduce l'ecografia in broncoscopia, gli ultrasuoni in broncoscopia. Attraverso il mio broncoscopio, con gli ultrasuoni, io posso vedere quello che c'è di fuori, linfonodi, vasi, parete bronchiale, invasione neoplastica, possa ampliare le mie prospettive. E arriviamo al 2000. Sarebbe la fine del secolo dei Lumi, se abbiamo detto che il secolo dei Lumi è il 1900, ma la pneumologia interventistica, nel suo progresso, non finisce. Ci vuole anche qualcosa, oltre alla ragione. Vedete questa frase, l'illuminismo tenne impegnata la ragione, il romanticismo l'alleggerì con il sogno e la fantasia. La fantasia. Il 2000 nasce non con un'innovazione tecnologica, ma nasce da una grande cosa, una grande idea, una grande fantasia. Quella di cambiare il nome. Endoscopia toracica era un termine riduttivo. Già i cardiologi ci erano arrivati, i radiologi ci erano arrivati, parlavano di radiologia interventistica, di cardiologia interventistica. Esce questo volume, pubblicato da The Clinics in Chest Medicine, pubblicato da Pravin Mathur e John Bamis, che si chiama Interventional Pulmonology, ma soprattutto esce questo lavoro di Luis Seio di Madrid, nel New England Journal of Medicine, nel 2001, che si intitola Interventional Pulmonology. Pneumologia interventistica. E pensate a quanto sia stato importante per la pneumologia questo cambio. L'endoscopia toracica la facevano gli ottoirini, la facevano gli anestesisti, la facevano i gastroenterologi. La pneumologia interventistica la devono fare gli pneumologi. È qualcosa che ha rinforzato la nostra specialità. Tant'è che tutta la comunità scientifica ha accolto, l'European Respiratory Society ha cambiato il nome subito del suo gruppo di studio, Endoscopy and Biopsy Technique in Interventional Pulmonology, l'European Association for Broncology, la World Association for Broncology, hanno cambiato subito il loro nome. European and World Association for Broncology and Interventional Pulmonology. Anche l'Aipo c'è. L'Aipo cambia nel 2002 il nome del suo gruppo di studio, Endoscopia Toracica, in gruppo di studio di pneumologia interventistica. Gli anni 2000 ancora nuove esplosioni, nuove esplosioni per migliorare sempre di più l'immagine, per vedere strutture sempre più piccole, per andare sempre più in profondità, per andare al di là delle pareti, dei confini dell'albero tracheo bronchiale, trovare nuovi strumenti di prelievo, mantenere sempre via aperte le vie aeree, mantenere sempre il respiro. Erano tutte sfide che si ponevano, migliorare sempre più l'immagine. Tutti a casa, oggi ormai abbiamo televisioni 4K, HD, anche la broncoscopia. Io ho cominciato, come vedete voi, col fibroscopio a sinistra, pieno di puntini neri, che erano le fibre rotte, e le aziende dicevano finché ce ne sono dieci di puntini neri, va bene, è fisiologico. Poi siamo passati al videoscopio, il videoscopio ci sembrava un sogno. Oggi abbiamo l'alta definizione, guardate che dettagli che possiamo cogliere della mucosa trapica e bronchiare. Ci sono metodiche che ci fanno vedere strutture sempre più piccole, la tomografia coerenza ottica, ci dà in vivo immagini che sono sovrapponibili a quelle istologiche. Questa è un'immagine istologica, questa è una mucosa bronchiale con le ciglia, le ghiandole, la sottomucosa, la membrana vasabile, vista in vivo. Ci sono tecniche come la microscopia confocale che ci fanno arrivare negli alveoli, ci fanno vedere le strutture degli alveoli, ci fanno vedere di che cosa sono pieni gli alveoli. Guardate, questi pallini sono macrofagi, macrofagi in vivo che riempiono gli alveoli e che noi riusciamo a vedere. e l'importanza di queste tecniche si vedrà nella ricerca che ancora continua sulle lesioni preenoplastiche, sulle lesioni delle vie aeree periferiche, sul rimodellamento delle vie aeree, sulle patologie infiltrative diffuse. Shigeticheda ci aveva permesso di andare lontano nell'albero tracheobronchiale, ma non ci basta, vogliamo andare sempre più lontano, arrivano broncoscopi ultrasottili, 3 mm, pensate, 3 mm, c'erano già dei broncoscopi così piccoli, ma questo ha un canale di lavoro che è più del 50% della sua superficie, può arrivare fino a livello subpleurico, guardate questo nodulo, attaccato alla pleura, e come un broncoscopio ultrasottile ci arriva, possiamo arrivare fino all'estrema periferia del polmone. L'illuminismo aveva preparato il terreno, nel 1789 scoppiò la rivoluzione francese, tutta questa storia che abbiamo visto di progresso della premologia interventistica aveva preparato il terreno, nel 2005 scoppiò una rivoluzione in premologia interventistica, e scoppiò una rivoluzione cercando di coniugare le immagini, la luce, l'ombra, cercando di chiarire quello di cui dubitevamo, e la TBNA, che era una metodica importante fatta da Coppenvang, in effetti qualche dubbio ce lo lasciava, noi facevamo il prelievo, ma non sapevamo se quel prelievo era fatto nella sede giusta, non vedevamo l'ago. L'EBUS, l'endbronchia l'ultrasound, gli ultrasuoni introdotti da Heinrich Becker ci facevano vedere, ma non ci facevano prendere quello che c'era al di là. Unendo queste due metodiche nasce l'EBUS, e oggi nessuno farebbe più broncoscopia senza l'utilizzo dell'EBUS TBNA, che unisce i due nomi, EBUS e TBNA, e ci dà la possibilità di fare che cosa? Di campionare tutti i linfonodi delle stazioni perobronchiale, sotto visione diretta, ha cambiato completamente, oggi l'EBUS TBNA è posto da tutte le linee guida come il primo step nella statiazione del cancro del polmone, ma non solo, ci ha permesso di diagnosticare lesioni polmonarie diacenti alle vie aeree, ci ha insegnato ad attraversare l'esofago, ci ha permesso di attraversare l'esofago, oggi lo pneumologo può attraversare l'esofago con il suo ecobroncoscopio, può campionare l'infonodi per i esofagei, può superare il diaframma, può vedere le ghiandole surrenaliche sinistre, può vedere le metastasi epatiche, può vedere i linfonodi celiaci e così via. Può andare in periferia attraverso l'albero tracheobronchiale, vedere piccole lesioni periferiche, ci si può andare, bisogna andare lontano con il nostro strumento, soltanto così ci accorgeremo di quanto lontano si può andare. Ci avviciniamo alla fine di questa storia, anni 2010, i social, Facebook, YouTube, ma per noi, per la pneumologia interventistica, c'è un'altra piccola rivoluzione o grande rivoluzione. L'oncologia scopre la terapia personalizzata di cui stasera altri hanno accennato e si è parlato e quindi ci chiede io voglio più tessuto, voglio tecniche bioptiche nuove perché devo ottenere più materiale, perché devo tipizzare la neoplasia, non mi bastano più le tre cellule che mi davi prima con il lavaggio, ho bisogno di qualcosa di più. Tissue is the issue, il tessuto è il motivo. Questa frase diventa un must che ci sentivamo ripetere a tutti i congressi, allora ci siamo sforzati a trovare tecniche di prelievo che ci dessero più tessuto. Nel 2009 Jürgen Etzel pubblica questo lavoro dice che se io metto una criosonda in profondità io congelo il tessuto polmonare che rimane adeso alla criosonda, io sono in grado di tirar fuori dei frammenti di tessuto polmonare di un centimetro, nasce la criobiopsia e l'Italia? L'Italia c'è perché un altro maestro e per me un fratello, Venerino Poletti, sono andato a guardare su Scopus, dal 2014 in dieci anni Venerino ha pubblicato 44 lavori solo sulla criobiopsia, ha organizzato dieci convegni, dieci corsi internazionali sempre con l'aiuto di Aipo ricerche sulla criobiopsia e ha contribuito insieme a Jürgen Etzel a diffondere non solo in Italia ma in tutto il mondo questa metodica. L'Italia c'è in questa storia. Il nodulo polmonare è altra sfida dei giorni nostri con gli screening, il numero di noduli polmonari è sempre più in crescita e la pneumologia interventistica ha fatto un'evoluzione in questo perché si è passati dalla fluoroscopia che era la metodica che usevamo agli ultrasuoni sottili che ci fanno vedere le caratteristiche ecografiche del nodulo periferico alla navigazione elettromagnetica alla CombinCT che cominciamo a usare anche noi pneumologi come usano cardiologi come usano i radiologi interventisti alla broncoscopia robotica alla Lung Vision che è una metodica di guida che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale ci aiuterà l'intelligenza artificiale a trovare la strada per muoverci all'interno dell'albero tracheobronchiale per catturare piccole lesioni piccoli noduli ci aiuterà la broncoscopia robotica a raggiungere piccoli noduli o piccole lesioni periferiche robot e intelligenza artificiale i giovani forse domani faranno broncoscopie con dei pad anziché tenere lo strumento in mano ma da queste immagini che cominciamo a vedere voi vedete dove può arrivare un broncoscopio robotico guidato da sistemi di guida come la Combin CT piccoli noduli periferici supplerici guardate questa piccola ground glass opacity impensabile prima di essere campionata con metodiche tradizionali vedremo se questo sarà veramente realtà o sarà chimera ma intanto nella chimera noi ci dobbiamo andare perché il paese delle chimere come diceva Jean-Jacques Rousseau sempre per restare nell'illuminismo è l'unico degno essere abitato in questo mondo siamo arrivati ai giorni d'oggi cosa c'è ancora da illuminare da illuminare e questo sarà il leitmotiv della pneumologia interventistica nei prossimi anni c'è la terapia abbiamo parlato di metodiche diagnostiche di metodiche stadiative di metodiche bioptiche i prossimi anni ci metteranno di fronte alla necessità di curare curare patologie come le patologie cronico-ostruttive l'asma che erano delle controindicazioni per la broncoscopia fino a pochi anni fa e che oggi sono diventate invece dei campi in cui la broncoscopia grazie alla riduzione di volume grazie alla termoplastica grazie ai nuovi trattamenti per la bronchite cronica ipersecretiva può aiutare il paziente a respirare quando si arriva al futuro il nostro compito non è di prevederlo ma di consentire che accada e noi dobbiamo consentire che con il nostro broncoscopio nei prossimi anni anche il cancro del polmone possa essere curato e stanno uscendo i primi lavori sulla terapia del cancro periferico con radiofrequenze con termoablazioni e con diverse metodiche di energia abbiamo visto il passato il passato alle nostre spalle abbiamo imparato tanto dal passato siamo pronti come pneumologi interventisti come pneumologia non mi piace distinguere queste due come pneumologi siamo pronti al futuro nel frattempo viviamo il presente nel passato nel presente nel futuro comunque la nostra disciplina non deve mai e non ha mai dimenticato e non deve mai dimenticare la sicurezza qui l'importanza che questa specialità sia fatta da pneumologi le procedure endoscopiche devono essere fatte nell'ambito di un contesto clinico deve essere valutato l'effettivo beneficio che può derivare dalle nostre procedure not everything that can be done should be done non sempre quello che può essere fatto deve essere fatto e altra frase di un maestro Sergio Cavaliere questo è un aneddoto che lui disse una sera a cena e che mi rimase impresso per tanti tanti anni noi dobbiamo far respirare coloro che stanno morendo perché non respirano non chi non respira perché sta morendo la passione anche questa è una caratteristica che deve caratterizzare il passato il presente il futuro della pneumologia interventistica tranne rare eccezioni la pneumologia interventistica non fa ricchi ma deve essere sempre guidata dalla nostra passione dal nostro desiderio di dare respiro e la storia è finita e vorrei finire con l'ultima diapositive spero Mauro di non aver rubato troppo tempo con i ringraziamenti ringraziamenti ad Aipo a Mauro al presidente a tutti i presidenti che si sono succeduti prima di lui perché Aipo è sempre stata vicina ha sempre creduto nella pneumologia interventistica un ringraziamento ad Aipo ricerche perché c'è sempre stata vicina ha sempre organizzato con una professionalità estrema straordinaria tutti gli eventi che abbiamo fatto in questo settore e non solo ovviamente e ringrazio per questo Carlo Zerbino e tutto lo staff e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici e poi chi devo ringraziare in questa storia l'Italia c'è stata c'è stata sempre ve l'ho dimostrato ma io posso dire grazie a tutti i colleghi che sono qui intorno a questo cerchio che l'Italia c'è l'Italia c'è anche oggi grazie a tutti coloro che si occupano di pneumologia interventistica oggi spero di non aver dimenticato nessuno ho messo i direttori capi scuola ma anche tutti i vostri collaboratori che quotidianamente si spendono e spendono la loro passione per questa disciplina devono ricevere sinceramente il grazie di tutta la comunità pneumologica ho dimenticato qualcuno vi siete visti ci siete tutti ho dimenticato qualcuno e adesso mi commuovo un po' perché un grazie particolare lo devo grazie lo devo a chi mi è stata vicino per tutti questi anni e che mi è consentito di fare questa lettura di arrivare qui e di realizzare tutto quello che ho potuto realizzare mi dispiace solo una cosa che questo sguardo di estasi che Lina ha in questa foto appoggiandosi sulle spalle di qualcuno non sia perché si appoggia sulle mie spalle ma si sta appoggiando sulle spalle di qualcuno molto più bello e molto più importante di me e grazie a tutti voi che mi avete ascoltato ricordatevi sempre che dei vostri sogni non dovete farne un desiderio ma dovete farne una scelta grazie grazie